Ciò che non è di sera la Cremonese nel campionato di Serie B, Cremonese che sarà ospite dal Cittadella, una Cremonese che sta andando sempre meglio, peccato ormai la conclusione ravvicinata della stagione, ne parliamo ovviamente non solo di Serie B ma anche di Serie D con i risultati di ieri di Pergoletese e Crema con Felice Staboli e con il nostro direttore Marco Bencivenga che oggi è qui con noi. Un saluto a Ivan che è fuori sede e naturalmente Ivan Gigi lo aspettiamo per venerdì prossimo. Felice partiamo subito dalla Cremonese e da questa striscia positiva che si sta allungando in vista appunto della partita di lunedì sera. Sì, il pareggio di Crotone ha dato ulteriore certezze e ulteriore tranquillità alla squadra legge rossa, diciamo il traguardo non è ancora tagliato ma si avvicina sempre di più, parliamo del traguardo della salvezza. L'onestamente va anche detto un'altra cosa, lunedì sera c'è una partita comunque importante perché la Cremonese può giocarsela e in caso di vittoria manterebbe vive le ultime vellità per poter quantomeno tentare un finale di stagioni molto interessante anche in chiave playoff. Chiaramente si sta parlando di un'ipotesi in questo momento molto difficile da realizzare e anche oggettivamente complicata perché il Cittadella sappiamo non è una squadra, è forte soprattutto in casa per tutte le cose note. Però la Cremonese in questo ultimo periodo sta facendo bene e anche a Crotone se avesse usato qualcosa in più forse poteva addirittura portare a casa i tre punti. Infatti era la domanda che volevo parlare perché tu a Crotone ovviamente c'eri per il nostro giornale e è mancato forse un po' di voglia? Più che voglia forse a un certo punto Rastelli ha capito che era il caso di non rischiare più di tanto perché chiaramente da un lato si può fare un discorso in chiave playoff ma bisogna guardarsi anche alle spalle e quindi quel punticino che si è pensato fosse utile comunque garantirsi alla fine è comunque importante per muovere la classifica. Di certo posso dire una cosa che ogni volta che la Cremonese si proponeva in avanti creava una situazione di almeno potenziale pericolo. Inoltre il Crotone mi è sembrato abbastanza sulle gambe riduce anche dalla sconfitta che aveva subito qualche giorno prima nel derby con il Cosenza nel sconfitto pericolare il pubblico in Muguniava non era esattamente caldissimo ma c'erano tutti quegli imposti addirittura per poter tentare il colpaggio. Comunque il punto che si è portato a casa è ugualmente importante e adesso vediamo che cosa accaderà lunedì sera dove la partita è molto bella è molto affascinante per mille ragioni anche per i vari ex, per i vari contenuti non l'ultimo per la partita che lo scorso anno aveva segnato un momento davvero molto particolare con quel gol di Cavion al 96esimo il 9 contro il 11. Ecco però Marco secondo te c'è un po' di ramarico per la partita di Crotone perché la tifoseria forse sperava ad un certo punto che potesse arrivare un altro successo. Sì io sono della filosofia che è meglio rischiare un po' di più, meglio rischiare di vincere che aver paura di perdere nel senso anche in questa fase del campionato peraltro la cremonese credo che ormai lo spettro della retrocessione l'abbia un po' allontanato e quindi possa giocare con libertà di mente, possa giocare con la testa libera, possa quasi divertirsi e dire ma se tu prima hai detto c'è questa possibilità quasi solo teorica, non è poi così solo teorica perché se tu dovessi fare il risultato a Cittadella ed è tutto da dimostrare, è tutto da conquistare sul campo però tu vai a tre punti dallo stesso Cittadella che in questo momento classifica la mano è all'ottavo non posto, cioè l'ultimo utile, ma se tu guardi anche i calendari delle altre il Perugia gioca in casa con Lecce che si sta giocando le prime posizioni con il Palermo con il Brescia quindi non è una partita facile. E l'altra squadra a portata di aggancio che è lo Spezia va a giocare a Cosenza e Cosenza ha gli stessi punti della cremonese per cui a Cosenza stanno facendo gli stessi ragionamenti che si fa qua, vinco una partita, si riapre la mini corsa al settimo, ottavo posto che sono quali utili per i playoff. Poi dopo dici da essere ai playoff a andare in Serie A è ancora lunga la strada, non è lunga, è lunghissima però vedo che l'arbitro della prossima partita si chiama Francesco Guccini, è meglio di lui, proprio si chiama nome e cognome come famoso cantautore di Lunga e di vita correva la strada. Nel momento in cui tu inneschi una spirale positiva e poi dopo, ma si è visto nei campionati europei quando la squadra outsider gli gira bene, lo stesso Ajax, adesso metto una parola, metto un dito nella piaga di tutti gli juventini, però vinci a Madrid, vinci con la Juventus e prendi una tale onda che a questo punto se dovessero perdere una partita nessuno gli può imputare niente, hanno già fatto più di quello che erano le previsioni e però sull'onda dell'entusiasmo possono arrivare veramente fino addirittura alla conquista della Coppa. Per cui bisogna anche sfruttare queste onde positive e credo che la tremonese con la serie utile aperta, da quando c'è Buonato, Stavoli intanto mi prende in giro e dice guardi da quando c'è ben ci venga, direttore della provincia, più o meno i tempi coincidono e speriamo almeno di portare fortuna. Partita con Cittadella, ovviamente ci si aspetta anche un apporto da parte dei tifosi. Beh senz'altro, devo dire la verità che erano in tanti, anche a Crotone, in tanti ovviamente compatibilmente con la distanza e con l'impegno della trasferta molto complicata e molto impegnativa, però davvero sono rimasti nel settore della Curva Nord che era stato riservato a loro sotto un diluvio veramente che per tutto il primo tempo si è scatenato sullo stadio, sulle vecchia uscita che ha, ricordiamo, perché è la curiosità che è anche colpito a questo ospedale, proprio veramente subito dietro il settore dei distinti che fa sempre un certo effetto. Comunque i tifosi hanno seguito la partita sotto l'acqua e hanno continuato a incitare la squadra in perterriti. Sicuramente ce ne saranno tanti anche lunedì sera, approfittando anche della giornata di festa. Molti condividono le aspettative di così cercare quantomeno di fare un ulteriore sforzo. Chiaramente c'è un piccolo paradosso che si sta andando avanti in campionato e si avvicina da un lato la zona play-off, è bastata la vittoria del Venezia per accorciare, paradossalmente, la zona play-off. E questo è l'altro elemento di cui tenere conto. Va anche detto che poi le giornate di campionato che rimarranno consentiranno alla Premonese, sulla carta almeno, così di poter portare a casa qualche punto. Mi riferisco in particolare sia la parte in casa con il Forgia, sia la trasferta di carpi dove teoricamente qualche punto si può fare senza azzardare troppo. Su quanto possono agire i tifosi? Facciamo un po' di contaminazione. Io ho assistito domenica scorsa Germani-Brescia contro Vannoli-Cremona, il derby, c'erano anche i due sindaci delle due città, Galimberti e Del Bono seduti vicino a me. Lì, alla fine del primo tempo, la partita era finita, era totalmente finita a favore della Vannoli. C'è stata una tale atmosfera nel palazzetto, poi probabilmente un piccolo di cavo di concentrazione nella Vannoli. Il pubblico ha cominciato a crederci nel vedere che il distacco si è sottigliava e siamo arrivati che l'ultimo tiro era il tiro decisivo. Per cui l'ambiente conta la sua parte. Assolutamente sì. Lasciamo ovviamente la serie B e parliamo invece di serie D perché ieri sera dalla possibile promozione, se praticamente dalla Pergolattese ovviamente parliamo del fatto che la capolista è stata sconfitta, quasi a sorpresa, contro dal Calvina, dalla possibile promozione già da festeggiare ieri, invece al Modena che si è ravvicinato è a meno tre e domenica prossima, parlo dell'anno 28 perché in questo fine settimana ovviamente si rispetta la Pasqua, ma ci sarà il confronto diretto a Crema che a questo punto, ne parlavamo anche prima fuori onda, sarà una partita assolutamente da grandi tifoserie da vedere. Sarebbe, ma non sarà, sarebbe. Ti correggo da tifoso. Sarà sicuramente molto interessante vedere anche come risponderà il Burtini che dopo tanti anni mi sento di dire ha chiamato veramente ai livelli del derby, del primo derby di due stagioni fa, cioè a ospitare un pubblico dalle grandissime occasioni e davvero si attende, arrivo chiaramente dei tifosi da Modena e questo ci sta, ma soprattutto si attende una grande risposta da parte dei tifosi della pergolentesi, i cosiddetti tifosi cannibali. La partita di ieri è stata una partita positivamente un po' strana di quelle che segnano un po' certi finali di stagione, dove affronti una squadra che è sì nelle zone basse della classifica, ma che ha bisogno di fare punti e gioca chiaramente col coltello fra i denti. Alcuni episodi girano in modo strano, per non dire storto, un gol sbagliato, un gol subito con la complicità del portiere fanno una differenza, in più oserei dire questo salvataggio proprio sulla rega, all'ultimo minuto forse mancava anche meno minuto quando ormai il pareggio sembrava fatto, c'è una bella foto sul giornale questa mattina che sintetizza veramente la giornata, perché quello è l'episodio che forse è arrivato un pareggio e ti dava quel punto in più che oggi voleva dire tantissimo. Condivido le parole di mister Contini, non dobbiamo prendere paura, siamo ancora davanti, siamo noi che affronteremo la partita con il Modena con tre punti di vantaggio, quindi anche l'ambiente non deve farsi prendere dal panico, né farsi distrare i pensieri, c'è una partita difficile che arriverà, ma ripeto la perigoletese parte davanti, davanti da punti, quindi come minimo gioca per due risultati e questo non è proprio un dettaglio. Ma poi tra punti avanti e ancora due giornate, perché dopo la partita con il Modena ovviamente ci sarà l'ultimo turno da giocare, però è chiaro che lo scontro della perigoletese Modena di domenica prossima attirerà molta attenzione. Sì, noi ci saremo sicuramente già questa settimana, abbiamo dedicato uno spazio doppio della partita, non immaginavamo che, però comunque è stato un capitolo, una tappa importante nel campionato, quindi mi fa piacere che l'abbiamo affrontata con lo spazio che meritava. La perigoletese per il vantaggio di giocare in casa, che come abbiamo appena finito di dire per la cremonese, non è un vantaggio da poco, ha anche il vantaggio psicologico del paracadute, dici non sono proprio all'ultima spiaggia, se proprio per venire male c'è ancora un'altra possibilità. Certo, hanno ragione i vecchi allenatori, quelli un po' personaggi di un tempo da Bosco, Mondonico, con la saggezza popolare al trap che dice non dire gatto finché non ce n'è nel sacco. Sarà una banalità, però il campo poi ti dimostra che è una grande verità. Ecco, ricordiamo che in caso di arrivo in parità per perigoletese Modena si giocherà un mezzo supplementare, quindi uno spareggio in campo neutro. Chiudiamo con il Crema che ha vinto la propria partita contro l'Oltrepo e rimane quel barlume di agganciare i pre-off. Sì, ricordiamo che il traguardo dei pre-off è un traguardo importante anche se non dà concretamente la possibilità di salire di categoria attraverso dei meccanismi, ci sono di meccanismi molto più complicati dove alla fin fine si arriva ai pre-off ed è più una soddisfazione simbolica che altro. Il Crema chiude, va verso la chiusura di una stagione in modo un po' strano, non brillantissimo e nonostante la vittoria di ieri la società mantiene questo silenzio stampa un po' per tenere, come posso dire, concentrata la squadra e per evitare così dichiarazioni che possono sembrare strane. Un po' anche in modo, a mio viso, in modo così un po' scaramatico e oserei dire un po' obsoleto. E comunque tra l'altro abbiamo un tifoso di Stanchevicius. Io ho conosciuto Stanchevicius da giocatore ed era sicuramente un giocatore particolare. Tra l'altro, non so quanto qui a Cremona ci ha conosciuto questa cosa, a Cremona e a Crema che lui faceva le famose rimesse con le mani come Cristo Callastri, cioè con la Capriola, solo che il suo allenatore ai tempi del Brescia era Carletto Mazzone, la prima volta che gli aveva visto fare, vi lascio solo immaginare che cosa gli abbia detto, se la fai altra volta, ti ammazza e non giochi più in qualcosa, era più o meno qualcosa del genere, con un accento romanesco. Però è sicuramente una persona seria, una persona che ha trovato in Italia un ambiente ideale al cui ha deciso di restare e il fatto che anche si sia rimesso in discussione come allenatore a Cremona, la realtà così. Per me, per come lo conosco io e come lo ricordo in realtà è un po' che non lo vedo e se ci servesse sentire, Marius, lo invitiamo a venire a il nostro ospite una volta in trasmissione prima della fine del campionato, è sicuramente un personaggio positivo e quindi gli auguriamo il meglio. Lo ringrazio al nostro direttore Marco Vincivenga di essere stato qui con noi oggi, felice statoli, un augurio di buona Pasqua a tutti voi e l'appuntamento è per venerdì prossimo 26 aprile. Grazie. Grazie.